allora di nuovo buon pomeriggio a tutti questa volta in modo ufficiale dato che zoom ci ha dato l'ok benvenuti bentornati su joiners sono giuseppe mi occupo di esperienze online sono il nostro modo per farvi conoscere il mondo del lavoro quindi farvi entrare subito in quello che il cosiddetto mondo dei grandi e quindi so che tanti di voi sono studenti ci magari ci sono anche dei neolaureati quindi insomma tutti pronti a entrare a far parte del mondo del lavoro e magari tanti di voi la maggior parte immagino interessati al mondo delle risorse umane siete nel posto giusto perché oggi parliamo di e char learning and development che è una funzione che si sta come dire sta crescendo tantissimo c'è sempre più più materiale più contenuti più idee più spunti su diciamo su questo mondo questa fetta di mondo risorse umane e quindi proposito dei trend a proposito delle piattaforme per la formazione in azienda oggi ho un bel come dire un bel trio di ospiti e quindi io voglio salutare sarah croppo master trainer e soprattutto esperta di consulenza aziendale eh in formazione manageriale e quindi ciao sarah benvenuta benvenuti a tutti e poi voglio salutare anche paolo cacciolati ed elena piva paolo che c'è manager senior e fondatore anche di HR Way ed Elena e insieme fanno parte oggi rappresentano HR Camelot ciao Paolo ciao Elena ciao a tutti allora io tra pochissimo vi lascio il palco perché sono anche curioso di ascoltarvi quindi sono sia moderatore dell'esperienza online ma anche curioso ascoltatore quindi tra un po' mi eh passo diciamo da dall'altra parte sarò comunque come vi dicevo prima sempre qui dietro le quinte a a supportarvi e ripeto magari qualcuno si è connesso con qualche istante di ritardo tra poco attiviamo la chat anzi sarete voi ad attivarla con dubbi domande e qualsiasi tipo di curiosità Sara ti lascio il palco e poi tanto so che la parola passerà anche a Paolo e a Elena a voi grazie grazie Giuseppe e buon pomeriggio benvenuti a tutti a quest'incontro che mi auguro possa farvi vedere da vicino scoprire quello che è il mondo della formazione e dello sviluppo delle persone che ci sono all'interno di un'organizzazione un mondo che lo racconteremo prima io eh e poi Paolo che vediamo formazione da un po' di anni probabilmente Paolo anzi sicuramente da un bel po' eh di anni di me ma anche da chi è appena entrato in azienda quindi ha uno sguardo fresco eh entusiasta come Elena che eh ci eh spiegherà soprattutto poi eh quella che è la sua esperienza dal punto di vista della formazione digitale che dove arriveremo perché oggi quello che vogliamo fare è assolutamente raccontarvi di questo mondo della formazione e anche l'evoluzione che c'è stata perché quando ho iniziato io eh circa quindici anni fa e magari anche quando ha iniziato Paolo eh anni ancora fa passati eh non era questo il mondo della formazione non c'era quello che eh sta avvenendo oggi quindi ci piace raccontarvelo non tanto per dirvi solo che cosa c'era che cosa c'è probabilmente che cosa ci sarà ma per farvi capire come questo sia un mondo aperto dove ci sono delle opportunità e soprattutto siccome si parla di persone persone all'interno non solo di un'organizzazione ma di un mondo che cambia continuamente anche il mondo dello sviluppo e quindi chi si occupa di eh supportare le persone nello sviluppo all'interno dell'azienda deve essere sempre pronto a questi cambiamenti. Intanto di formazione penso che voi ne abbiate già sentito parlare tantissimo so che eh ci sono ehm c'è qualcuno di voi che studia psicologia eh del lavoro. Io arrivo dall'università di Padova eh in cui mi sono laureata in psicologia e lavoro e mi occupo di formazione da circa quindici anni eh sul territorio nazionale anche se la base è a e a Padova. Eh perché oggi vi vogliamo raccontare della formazione? Perché voi mh probabilmente anche già negli annunci di lavoro troverete spesso questa frase che continua ad esserci ci occupiamo di formazione continua investiamo nelle persone o magari siete anche appassionati del mondo eh HR e vorrete occuparvi di sviluppo. Ehm quindi detto questo cerchiamo di capire perché oggi la formazione è importante soprattutto questa formazione cosiddetta continua. Voglio iniziare con una frase che probabilmente tutti conoscete il famoso detto il battito di ali di una farfalla in grado di provocare un urogano dall'altra parte del mondo. Perché iniziamo con questo? Per dire che viviamo in un sistema così complesso eh in un mondo in cui tutto è collegato che qualsiasi cambiamento si ripercuote necessariamente anche nel mondo lavorativo. Pensiamo per esempio anche alla pandemia che è stato un fenomeno sociale importante che ha avuto delle importanti ripercussioni nel mio mondo, nel mondo di Paolo, di Elena e anche nel vostro mondo per esempio universitario. Io non avrei mai immaginato eh di vedere un'università in cui le lezioni venivano svolte online. Eppure oggi è la normalità. Perché? Perché purtroppo o per fortuna ci sono dei cambiamenti che hanno sempre delle ripercussioni sulle dinamiche anche lavorative. Quindi quello che succede fuori ovviamente interessa anche tutti noi che lavoriamo all'interno all'interno di aziende. Perché dico questo? Cioè qual è il quindi di questa di questa premessa? È che noi dobbiamo sempre essere pronti ad adattarci a tutto. Dobbiamo essere sempre predisposti ad imparare. Non è più importante eh in un'azienda o comunque nel mondo lavorativo in genere che cosa sappiamo, che cosa abbiamo studiato, ma quanto siamo disposti sempre ad imparare ancora? Come diceva Michelangelo, ho 83 anni, sto ancora imparando. Perché le competenze che magari avete acquisito oggi servono, che state acquisendo, ma domani non serviranno più. E quindi che cosa dobbiamo fare? Sviluppare, allenare una competenza che è base per tutte le altre, cioè quella del continuare ad imparare. Si parla tanto di apprendimento attivo. Chi si deve occupare di questo all'interno dell'azienda la funzione delle risorse umane o, per quanto mi riguarda, chi come consulente esterno entra nelle aziende, entra nelle organizzazioni per supportare le persone proprio nei processi formativi che possono essere sia di gruppo che individuali. Non so se per esempio avete sentito in quest'ultimo periodo soprattutto si parla di upskilling, di reskilling. Cosa significa? Significa che a un certo punto ogni persona, nonostante abbia le proprie competenze, deve fare una sorta di upgrade, cioè deve arricchire le proprie competenze o addirittura deve reinventarsi. In quest'ultimo periodo tantissime persone si sono reinventate anche all'interno delle stesse aziende, quindi hanno fatto un cambiamento più profondo. Questo cosa significa? Per fare una sintesi di quello che ho detto fino adesso, che le risorse umane hanno, chi si occupa di risorse umane, hanno il compito di non solo capire quali sono le richieste del mercato, quindi che cosa oggi le persone devono imparare, ma soprattutto capire chi sono le persone che devono imparare e che devono apprendere, perché la generazione di oggi è diversa da quella di ieri e sarà diversa da quella di domani. Quindi è fondamentale capire le caratteristiche, i punti di forza di ogni generazione, perché la vostra generazione ha delle caratteristiche, ha delle attitudini, ha dei punti di forza da cui si deve partire per sviluppare delle eccellenze, così per colmare ovviamente dei gap attraverso la formazione e questo si può fare ovviamente solo se c'è qualcuno che si occupa di questo e si ferma a farsi questa domanda. Oggi ai ragazzi, ai futuri professionisti, cos'è che interessa veramente. Non è solo una questione di contenuto, ma anche di forma, perché le famose piattaforme digitali che esistono oggi ci servono proprio per mettere dentro tutto il contenuto di cui abbiamo bisogno. Ora, le piattaforme digitali dieci anni fa, quindici anni fa, non esistevano e non avevano l'importanza che hanno oggi. La classica formazione ai miei tempi o ai tempi di Paolo era le otto ore classiche. Probabilmente anche i vostri genitori si sedevano in un'aula formativa classica e avevano per esempio un formatore che le formava per una serie di ore su una tematica. Facciamo finta quella della leadership, ok? O la comunicazione, o il lavoro di squadra. Bene, il valore aggiunto a quei tempi era avere un docente a disposizione che potesse dare queste informazioni. Oggi io vi chiederei se vi immaginate lavorare in un'azienda che vi dice ok, per otto ore state seduti e fate il vostro corso di formazione. Io penso che con le caratteristiche che avete, con le attitudini che avete, con questo strumento che avete sempre a disposizione, forse le cose non sarebbero così prese, come dire, con entusiasmo. E allora ecco che bisogna ripensare alla formazione e quindi a momenti diversi. La famosa formazione blended, che cosa significa? Che ci sono momenti di apprendimento formale in cui probabilmente si possono formare le persone sul tema della leadership, attraverso una lezione in aula, attraverso una risorsa online. Ma poi c'è tutta una serie di momenti che vengono definiti apprendimenti informali, in cui per esempio siete voi stessi che potrete andare in autonomia, come già succede, a scovare quello che più vi interessa. O ancora momenti che vengono così definiti di social learning, in cui cioè ci sono queste piazze virtuali in cui ci si confronta e si apprende insieme, si scambiano le esperienze. Per non parlare poi dell'apprendimento esperienziale o quello che viene fatto on the job, che è altrettanto importante. Quindi vedete che la formazione oggi non si deve più occupare del che cosa devo fare, ma il come devo mixare queste esperienze in base a che ho davanti. Ed ecco perché da questo punto di vista le piattaforme online, le piattaforme digitali si prestano molto a questo obiettivo, perché sono proprio dei contenitori all'interno del quale possiamo mettere di tutto. Io tra l'altro prima di parlarvi della formazione digitale, in modo che poi anche Paolo ed Elena si possono allacciare. Volevo anche raccontarvi un paio di esperienze a proposito di che cosa significa oggi fare formazione in azienda con una generazione giovane come la vostra, proprio partendo dal presupposto che la formazione classica di aula deve essere necessariamente integrata anche con altre esperienze. Allora il primo presupposto è che voi, per attitudine o altro, avete voglia di sentirvi protagonisti dello sviluppo, del percorso che fate. Infatti quello che succede oggi è che ci chiediamo proprio quali sono le curiosità, gli interessi delle persone. Mettiamoli al corrente, coinvolgiamoli per capire che cosa gli interessa e come vogliono sviluppare e progredire all'interno dell'organizzazione. Detto questo, per esempio un percorso che è da circa quattro anni svolgo con la società con cui collaboro, ha pensato, in questo percorso abbiamo pensato di dire ok, lasciamo perdere la formazione classica, ok? Perché invece non partiamo dal presupposto che le persone, tutti noi apprendiamo meglio quando ci troviamo in un ambiente positivo, in un ambiente in cui possiamo anche uscire dal nostro mondo e andare a conoscere mondi diversi, la cosiddetta formazione divergente innovativa in cui quindi vado a fare delle esperienze, mi trovo in situazioni anche lontano dalla mia zona di comfort e che posso scegliere in base per esempio alla mia curiosità, cercando anche di incontrare persone che appunto appartengono a mondi diversi perché anche la contaminazione in realtà genera apprendimento. Ed ecco per esempio che un modo di fare formazione può essere anche quello di prevedere una serie di incontri che potremmo definire visite aziendali, ma non sono nemmeno visite aziendali in cui per esempio se io devo aiutare, individuare un percorso per un giovane ragazzo che si deve formare sui temi della leadership, invece di tenerlo in aula gli dico ma sai che potresti andare a fare una giornata intera in un'azienda che si occupa di gestione dell'errore e quindi parlare con dei manager che dal punto di vista concreto ti dicono nel quotidiano come gestiscono l'errore e a partire dall'errore generano apprendimento e anche innovazione per l'azienda. Oppure potrei mixare questa esperienza con un'altra in cui ti faccio incontrare l'allenatore della nazionale di pallavolo che ti racconta durante tutta una giornata che cosa significa gestire un team di atleti, che cosa significa lavorare sul concetto di squadra anche qui sull'errore o sulla valutazione ai fini ovviamente della performance. Ed ecco capite quindi che sono tutta una serie di esperienze che possono essere messe insieme ad esperienze online perché io ti posso dare anche attraverso la piattaforma un articolo da leggere, un filmato da vedere e poi magari con degli incontri in presenza con un coach possiamo iniziare a dire ok portiamo e mettiamo a terra tutto quello che hai visto. Quindi capite che in realtà è un approccio blended che sempre di più chi si occupa di formazione fa e offre nei confronti delle persone in cui cioè la persona si sente protagonista, attiva del suo percorso e quindi non c'è più una formazione calata dall'alto. Stessa cosa per quanto riguarda il digitale. Io vi devo dire la piattaforma Zoom qualche anno fa non la conoscevo così bene come la conosco oggi. idem le piattaforme LMS. Si parla tanto di piattaforme, di scormo, di tutta una serie di nomi, di concetti che qualche anno fa non erano assolutamente alla nostra portata di mano. Quando io mi sono resa conto che avevamo il vincolo con la pandemia per esempio che non si poteva più entrare in aula è ovvio che mi sono affacciata come tutti quanti noi alla formazione digitale. Io però voglio come dire essere chiara su una cosa e sicuramente poi Paolo ed Elena mi daranno conferma di quello che dico che è occuparsi di formazione digitale non significa da parte delle aziende solamente capire che c'è bisogno di una piattaforma per esempio digitale all'interno della quale mettere dei corsi. Cioè non è quello l'obiettivo. L'obiettivo invece è andare al cuore della questione e dire se io ho una persona che non è più in aula quindi non mi vede, non ha un riscontro fisico con me, un riscontro diretto con me, come mi assicuro che viene coinvolta nel suo processo di sviluppo? Perché noi abbiamo un computer, un monitor e per esempio nei corsi asincroni non abbiamo il riscontro del docente. Quindi che cosa significa questo? Che io devo chiedermi ancora prima di scegliere la piattaforma, ancora prima di scegliere il contenuto formativo che metterò all'interno della piattaforma, mi devo chiedere come stimolo la curiosità, l'interesse delle persone, come le coinvolgo, come le aiuto ad apprendere. Quindi è proprio ripensare la formazione, non è più utilizzare uno strumento ma creare proprio un ecosistema diverso in cui le persone si sentano, sentano che la piattaforma è loro ma così come il corso, così come è l'esperienza. Che per noi è un lavoro bellissimo, soprattutto chi magari si vuole occupare di risorse umane, sarà appassionato come la sottoscritta e come Paola Edelna di tutto quello che riguarda il cambiamento, lo sviluppo e il miglioramento delle persone e quindi è un lavoro bellissimo anche quello di dire ok ma se io mi dovessi immaginare oggi la formazione sulla leadership per un ragazzo che ha un computer o anzi ha il suo cellulare in mano che di continuo gli arrivano le notifiche e tutto quanto, com'è che lo faccio stare lì per un po' di tempo per attirare la sua attenzione, com'è che gli faccio piacere questo tema della leadership così com'è che mi assicuro che in qualche modo mi dia anche un riscontro ed ecco che per esempio quello che ho fatto io è iniziare a lavorare a proposito di reinventarsi il lavoro sulla gamification sicuramente voi con i videogame sarete più bravi di me però sappiate che esistono corsi che in primis io ho fatto creato sulla sicurezza in cui invece di parlare della sicurezza tecnica che diciamo c'era un po' così è anche un po' noiosa a volte perché sono normative eccetera ho iniziato a dire ma se invece di fare una formazione classica sulla sicurezza non si fa un gioco all'interno di una piattaforma tipo una caccia al tesoro appunti dove le persone devono smascherare gli errori che ci sono all'interno di un reparto produttivo a proposito della sicurezza è un modo diverso per fare formazione però anche questa è formazione perché se alla fine le persone sono interessate e soprattutto capiscono qual è il messaggio formativo noi formatori abbiamo fatto centro vi faccio l'ultimo esempio prima di dare la parola a paola ed elena a me è successo di dover fare un corso all'interno di un processo di onboarding di un'azienda quindi l'inserimento lavorativo di delle persone una formazione sui valori aziendali tra l'altro una tematica molto importante lo sapete soprattutto voi avete voglia di conoscere i valori aziendali e anche capire come si alligliano ai vostri bene l'idea che per esempio abbiamo avuto con questa azienda è iniziare a dire ma perché invece di utilizzare un'immagine una slide al computer sempre attraverso una piattaforma sincrona in cui vengono semplicemente annunciati i valori dell'azienda iniziamo a fare un tour 360 dell'azienda stessa quindi proprio con dei punti di contatto in cui non solo quindi le persone fanno un'esperienza immersiva e iniziano a conoscere i luoghi dell'azienda anche se solo in maniera virtuale ma gli raccontiamo anzi gli facciamo scoprire i valori dell'azienda stessa andando a vedere i luoghi che ci sono all'interno di questa sede e andando quindi a trovare dei simboli che possono raccontare attraverso uno storytelling proprio i valori dell'azienda stessa diventa un'esperienza un'esperienza virtuale e quindi un modo diverso digitale asincrono però per raccontare un qualcosa che probabilmente oggi anche per una questione di efficienza organizzativa eccetera magari le aziende non riescono a creare attraverso una formazione d'aula però capite che di idee ce ne sono tantissime e che partono tutte dallo stesso presupposto come io aiuto le persone ad imparare e soprattutto come stimolo la curiosità e il loro interesse perché ricordatevi sempre se volete occuparvi di sviluppo delle persone di risorse umane che le persone apprendono ma probabilmente l'avrete sperimentato anche voi all'università o nel corso dei vostri studi le persone apprendono quando si trovano una situazione di positività di coinvolgimento e quindi non è una situazione negativa cioè più mi dai qualcosa con cui posso divertire che mi fa stare bene che è attiva tra l'altro anche tutti i miei sensi un po come la formazione che si faceva esperienziale tempo fa in presenza anche se si fa ancora più c'è un apprendimento che anche gli studi lo dicono viene definito brillante cioè le persone più vengono attivate più vengono coinvolte da tutti i punti di vista più imparano ed apprendono e soprattutto si sentono protagoniste perché la formazione di oggi è centrata sulla persona non viene più dall'alto arriva in una sorta di co creazione la creiamo insieme chi si occupa di formazione ma anch'io che racconto di me che racconto quelli che sono i miei interessi e troviamo quindi un perfetto matching tra cosa vuole l'azienda cosa vuole il mercato ma anche cosa voglio io vi lascerò la perché ecco volevo fare giusto un'introduzione sul sul mondo della formazione e sul digitale eh su cui sicuramente Paolo ed Elena hanno molto da raccontarci io prima di lasciare la parola a Paolo ed Elena voglio ricordare che se qualcuno ha qualche domanda curiosità per Sara magari può può già inserirla in chat poi le recuperiamo più tardi tutto qui Paolo a te bene grazie davvero Sara per la tua introduzione hai colto in pochissimi minuti moltissimi temi davvero stimolanti saluto tutti i partecipanti intanto di questo bellissimo evento e anche quelli che ci vedranno in registrazione vi presento brevissimamente io mi occupo di risorse umane come effettivamente ti anticipato Sara da qualche annetto da un trentina d'anni più o meno sono ridotto infatti abbastanza maluccio ormai ma cerco di resistere e mi aggancio subito tra l'altro quello che dicevi Sara è vero il lavoro delle risorse umane è bellissimo ma è faticosissimo sappiatelo voi che vi volete approcciare a questo mondo pare che ci siano anche delle statistiche clandestine di un tasso di suicidi altissimo tra gli ex direttori del personale sto scherzando ovviamente però sdramatizzare anche ogni tanto ci vuole sappiate però veramente che affrontare questo mestiere intanto richiede di essere disposti tutti i giorni ad affrontare novità sconosciute cose nuove che vi arrivano tutti i giorni voi direte che bello finalmente però provate a farlo per anni 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 quando tutti i giorni ti troverai una novità una cosa che non hai mai affrontato prima quindi sappiate che dovrete affrontare anche questo genere di tematiche tornando comunque a me mi occupo tra l'altro anche di community per cui a parte fare l'HR manager ho fondato insieme a altri colleghi imprenditori una community che si chiama HR Camelot potete andare a visitare il nostro sito hrcamelot.it e tra l'altro potete anche iscriversi iscrivervi a questa community l'accesso è assolutamente gratuito e stiamo proprio favorendo l'ingresso da parte anche delle nuove generazioni delle persone anche che non hanno ancora iniziato a lavorare nel mondo delle risorse umane ma che vorrebbero apprendere imparare confrontarsi anche con chi già sta facendo questo lavoro tra l'altro proprio con la community HR Camelot stiamo strutturando un'academy dedicata proprio anche alle persone junior alle persone che stanno iniziando il loro percorso in azienda nel mondo delle risorse umane affinché possano trovare dei contenuti predisposti però da persone che sono operative in azienda quindi un po' quello che ci contraddistingue e che proprio diamo un approccio molto concreto di scambio esperienziale ma anche di fornitura di strumenti della cassetta degli attrezzi che possono veramente essere utili tutti i giorni nella pratica quotidiana per quanto riguarda le risorse umane quindi davvero vi rinnovo l'invito chiunque di voi voglia contattarci abbiamo anche una mail info chiocciola hr camelot punto it oppure più semplicemente su linkedin potete chiedere il contatto contattate direttamente vi do gli strumenti per accedere ben volentieri ecco tornando invece a noi in particolare al tema di oggi ovviamente ringrazio gli amici di join us per l'invito e per poter portare la mia esperienza e ho chiesto anche appunto a elena che conosco di poter avere anche il suo contributo come visuale dell'approccio di una persona che sta iniziando questo percorso che ha già fatto alcune esperienze in ambito anche di strutture molto interessanti multinazionali quindi proprio per avere con una visuale da parte di più persone ecco da parte mia una cosa subito vorrei dire in particolare per quanto riguarda il mondo del digital declinato poi sul learning e quindi sulla formazione si sente molto adesso parlare di digital hr quasi come se l'hr dovesse essere solo più fatto tramite il digital questo ovviamente può portare a delle contraddizioni e anche soprattutto a dei mismatch nel senso che il digital ovviamente rimane un mezzo le persone invece sono il nostro fine ultimo quindi la gestione delle persone non è più ovviamente come un tempo ma diceva anche sarah per la formazione si faceva esclusivamente in aula in presenza adesso è cambiato tutto e parleremo adesso anche un po di alcuni esempi no però comunque il focus sono sempre le persone quindi quando vedete magari proporre corsi digital hr va benissimo però l'hr o adesso people management human capital chiamatelo come volete ma è sempre comunque una gestione e poi che finalizzata alla persona quindi questo è molto importante perché poi si crea un po di confusione a volte proprio con questo abuso anche volte proprio del termine digital hr ecco l'altro aspetto che volevo subito un pochettino sfatare per quanto riguarda il learning e nella mia esperienza ma anche in quella dei miei colleghi hr manager bisogna dire subito che la formazione è sicuramente uno strumento anche per la retention anche per il trattenere i talenti che in azienda ma non deve essere anche questo il fine il fine ultimo anzi io faccio un po una battuta certe volte la dico gli imprenditori e gli amministratori delegati altre volte no perché sono certo che potrebbero prendermi schiaffi ma la formazione di un talento è come il caffè sospeso cioè se io formo un talento devo anche mettermi io imprenditore io amministratore delegato nell'ordine idee che comunque quel talento lo posso perdere nonostante la formazione che ho fatto ma è comunque come lasciare un caffè sospeso a un altro e non è il fatto che io ho fatto beneficenza un altro io in realtà formando i miei talenti sto facendo crescere l'intero sistema perché poi si tratta sempre di una circolarità se io formo dei talenti ne perderò magari il 30 per cento questo 30 per cento andrà a migliorare il sistema da un'altra parte è vero che li ho perso io ma magari questi contribuiranno a una crescita del sistema complessivo io a mia volta posso utilizzare dei talenti che sono stati formati da un'altra parte ecco quindi questo era un po per dire no la battuta del caffè sospeso paragonato la formazione non è per forza che diventa l'unico fine quello di trattenere le persone quasi come se delle aziende fossero delle gabbie delle prigioni le aziende sono sempre di più dei sistemi fluidi dei sistemi dove si entra si sta per un certo tempo e dopo un po si esce poi per carità magari sarà bellissimo poter trattenere il miglior talento che ho il più a lungo possibile ma non è questo di nuovo probabilmente il fine ultimo il fine molto importante è quello del take care no quello che ci chiedono le persone effettivamente e di dimostrare noi che molte volte rappresentiamo le aziende che si va oltre le parole si va oltre gli slogan si vanno oltre i manifesti che trovate appesi magari nei muri dell'azienda dove c'è la mission la vision tutte queste belle parole che poi molte volte non sempre vengono realizzate allora è meglio farlo nei fatti ok a di là di quello che c'è scritto nel sito dell'azienda della mission della vision poi tu fallo veramente nei fatti e la formazione chiaramente un dimostrare che io investo io mi prendo cura delle mie persone e quindi seguo le persone nel loro percorso di sviluppo ed è per questo anche che abbiamo voluto collegare nel titolo stesso del evento di oggi learning con development perché sono naturalmente concatenati questi due temi faccio della formazione per poter accrescere le competenze delle mie persone affinché ovviamente non solo possono avere una gratificazione personale non solo possono essere spendibili anche all'esterno della mia azienda ma perché possono trovare dei percorsi di crescita dentro la mia azienda poi molte volte si cerca di finalizzare i percorsi su due binari quello che può essere uno il binario della crescita trasversale cioè della crescita gestionale e questo però è molto importante capire la persona che cosa vuole questo non mi riaggancio cosa diceva Sara quindi fare proprio un'attività blended ma anche proprio blended sulla persona ecco non solo sulle modalità quindi avere la possibilità di distinguere laddove sia possibile fare una formazione di tipo trasversale cioè gestionale perché la persona vuole crescere anche in termini verticali anche in termini di carriera oppure ci sono altre persone che si motivano nella formazione sulla propria attività quindi avere la possibilità di allargare la loro formazione tecnica no la loro espertese di tipo tecnico non tutti vogliono diventare dei responsabili dei direttori anzi molte volte si trova persone che tendono a rifiutare questo quindi noi come il char dobbiamo essere in grado di intercettare quelle che sono effettivamente le aspirazioni reali delle persone quindi tarare la formazione anche su questo aspetto ciò detto venendo più al punto del digital delle piattaforme anche di cui abbiamo accennato prima vorrei portare alcune esperienze personali alcuni casi concreti ecco tanto per citare quello che potrebbero essere le cose che si troveranno magari i nostri ascoltatori quando entreranno in azienda alcuni magari sono già entrati e quindi troveranno tutta una serie di strumenti laddove sperabile come ci siano molte volte questo genere di piattaforme possono essere di tipo generalista allora apparentemente l'azienda pensa di investire sulle proprie nuove risorse facendo percorsi di onboarding come quelli che citava Sara prima facendo percorsi di induction mettendo a disposizione delle piattaforme di formazione o lms chiamiamola così che offrono dei contenuti generalisti molte volte vi posso dire che dai feedback che abbiamo ricevuto da parte delle talenti delle persone delle risorse sono state inserite in questi percorsi c'è stato ecco non più di più di uno che ha portato delle perplessità no sulle piattaforme troppo generaliste perché è vero che io posso trovare un n numero di corsi ma se poi questi corsi si risolvono tutti in pillole fatti magari in modo asettico dove arriva il guru presunto tale no che ti spiega come comunicare al meglio o come gestire un team di lavoro o come fare anche lì della formazione a distanza no però poi non c'è la possibilità di avere uno scambio effettivo anche se fatto tramite il digital molte volte si genera comunque un malcontento addirittura in chi riceve questa formazione perché dice caspita l'azienda sta investendo ma sta investendo in delle cose che hanno dei contenuti che che sono superficiali quindi molta attenzione all'utilizzo delle cosiddette piattaforme generaliste no sicuramente la tendenza che vedo anche sentendo appunto i miei colleghi è quella di invece come diceva Sara riuscire a customizzare queste piattaforme soprattutto inserendo contenuti che siano da un lato funzionali a quello che fa effettivamente l'azienda e dall'altro che rispondano a quelle esigenze che dicevo prima delle persone quindi sempre di più sono vincenti le strategie dove l'azienda utilizza questo contenitore per personalizzare dei percorsi di formazione si possono usare molte tecnologie cioè la tecnologia dello SCORM ad esempio che viene sempre più usata che praticamente consiste nel riuscire a riproporre delle formazioni che sono già state fatte anche con modalità mista magari un pezzo sincrono un pezzo asincrono un pezzo in presenza un pezzo magari fatto a distanza e poterle mettere a disposizione in intranet molte volte nelle reti aziendali delle persone che entrano quindi in azienda questo è molto apprezzato perché comunque qualunque pacchetto di formazione per quanto sia fatto da un ottimo formatore se poi non viene blendizzato non viene customizzato non viene adattato alla realtà aziendale rischia sempre di essere una cosa un po appiccicata e le persone i talenti che ricevono questo genere di formazione lo percepiscono subito quindi la richiesta che noi come manager molte volte vediamo arrivare anche proprio dalle nuove generazioni proprio questo di poter avere un sistema funzionale di non avere solo la pillola ecco vi faccio l'esempio non cito piattaforme perché non è corretto però l'esempio della formazione di inglese formazione inglese di lingua è sempre una delle più richieste abbiamo visto che genera comunque molta disaffezione la formazione che ha solo dei pacchetti predefiniti ha solo delle lezioni già preconfezionata mentre invece tende sempre a essere più gradita e essere più efficace anche la formazione dove è previsto l'intervento di un docente magari a distanza ci sono delle piattaforme addirittura ti garantiscono la possibilità di interagire con un docente sette giorni su sette 24 ore al giorno tu scegli tuo slot e poi questo ti collega ovviamente con un docente sarà in giro per il mondo e tu puoi fare la tua lezione d'inglese all'ora che vuoi parlando anche dell'argomento che hai scelto tu ecco quindi questo è un esempio per dire la classica formazione un po' così standardizzata è sempre meno apprezzata invece sono apprezzate queste forme miste ecco l'ultimo aspetto che volevo far presente ci sono comunque anche le formazioni sulle hard skill adesso si parla sempre di più moltissimo di soft skill giustissimo competenze trasversali devono essere sempre più approfondite sviluppate però non dimentichiamo che le aziende hanno bisogno anche di fare formazione sulle hard skill sulle competenze tecniche ma questo ha vantaggio anche delle persone che lo ricevono perché le persone poi possono fare effettivamente un percorso di carriera interessante anche se hanno le hard skill che richiedono le aziende per fare quelle determinate attività o per proporsi per un'attività diversa allora questo pone anche degli scenari interessanti perché per la formazione sulle hard skill molto più spesso sempre rispetto al passato le aziende tendono a utilizzare formazione digital di tipo virtuale quindi la formazione con la realtà aumentata sempre più vi faccio un esempio io ho lavorato in un'azienda che aveva l'appalto della formazione dei tecnici dei meccanici che mettevano le mani sui motori delle ferrari ma dei meccanici di tutto il mondo quindi loro formavano a distanza le persone che magari lavoravano a dubai un nome a caso perché dubai c'è un certo numero di ferrari e quindi ci sono anche parecchie officine della ferrari convenzionate quindi loro a distanza formavano i meccanici che a dubai dovevano mettere le mani sul motore della ferrari questo lo facevano con forme di formazione aumentata con la realtà aumentata adesso l'ultima frontiera è il metaverso diretto il metaverso ma caspita che c'è zecca no c'è zecca perché sempre più aziende stanno considerando la possibilità di fare formazione anche sul metaverso anche di questo tipo io non sono un appassionato del metaverso ve la butto lì così però sappiate che le tendenze del futuro ci dicono che sempre più spesso andremo anche lì in quel luogo per fare la formazione ecco io ho messo qui un po di cose adesso non vorrei dilungarmi troppo anche per non sottrarre spazio alle altre persone Giuseppe non so se vogliamo adesso passare la parola Elena assolutamente sì vai pure Elena grazie mille Paolo e grazie anche Sara io mi presento sono Elena una psicologa del lavoro abilitata indirittura d'arrivo per iscrivermi proprio all'albo degli psicologi del Piemonte sono qui oggi per condividere la mia esperienza del primo anno di tirocinio svolto dopo la mia laurea magistrale in un'azienda multinazionale in ambito automotive all'interno proprio dell'ufficio delle risorse umane è stato un anno di formazione intensa ricca proprio di sfide momenti di crescita personale e professionale in particolare voglio infatti condividervi parlarvi del mio ruolo nell'organizzazione e nella gestione della formazione finanziata cercherò proprio di raccontarvi retroscena di cosa c'è effettivamente dietro le quinte della programmazione di un corso di formazione quando ho iniziato il mio tirocinio non avevo proprio idea di quanto sarei stata coinvolta nella formazione finanziata dell'azienda all'inizio il processo sembrava abbastanza semplice creare le classi contattare i docenti e garantire che tutti i partecipanti fossero effettivamente presenti il giorno della formazione tuttavia le cose non sempre si svolgono secondo i nostri piani e spesso mi sono trovata effettivamente ad affrontare imprevisti che mi hanno richiesto molta flessibilità e capacità proprio di adattamento in soldoni comunque mi sono occupata di riunire i partecipanti in base al loro turno di lavoro perché in quell'azienda lavoravano su tre turni mattino pomeriggio e notte e di contattare i propri docenti sia interni che esterni per programmare la formazione in particolare quando il docente era interno sia magari era uno dei manager dell'azienda ho avuto proprio l'opportunità di discutere con lui le dinamiche della formazione di lavorare proprio a stretto contatto per garantire il successo dell'evento formativo per customizzarlo un po' di più mentre con i docenti esterni ho dovuto gestire un po' più la parte logistica e gli aspetti pratici una volta creati i gruppi tramite un'analisi dei bisogni che precedentemente avevano effettuato all'interno dell'azienda io praticamente ero arrivata con la pappa già pronta e dopo aver organizzato proprio l'agenda dei corsi sono stata proprio responsabile di garantire la presenza di tutti i partecipanti al giorno della formazione durante la giornata infatti mi sono occupata di verificare che tutti i partecipanti fossero presenti ho fatto compilare loro il registro per la rendicontazione dei corsi questa fase della gestione della formazione davvero fondamentale proprio per l'inserimento di corsi sul portale e ci siamo anche affidati con un'agenzia esterna che ci ha fornito proprio supporto sulla rendicontazione dei registri e sull'inserimento di corsi su fondi impresa tra l'altro questa agenzia esterna è stato proprio un mio supporto morale ed emotivo perché ogni domanda l'andavo a fare a questa agenzia alcune delle formazioni che abbiamo organizzato erano davvero molto originali coinvolgenti un tipo di gamification come ha identificato prima Sara in particolare abbiamo utilizzato i lego proprio mattoncini per insegnare il metodo 5s per chi non lo sapesse il metodo 5s sarebbe una metodologia che permette un po di organizzare il posto di lavoro e di migliorare di conseguenza l'efficienza del lavoro grazie a questa modalità di insegnamento non vi è stato quel classico rapporto discente docente quel rapporto unidirezionale come succedeva tra virgolette a scuola ma bensì proprio un tipo di interazione attiva e giocosa io mi ricordo che i dipendenti usciti da quel corso di formazione erano davvero felici e pronti a condividere ciò che avevano fatto ai loro colleghi che dovevano ancora fare il corso per rendere tutto il più documentato possibile abbiamo utilizzato un software progettato proprio dall'azienda ancora molto in fase di costruzione perché era tutto manuale in cui all'interno di questo software potevamo mettere la formazione svolta quella da svolgere e introdurre anche i nomi dei partecipanti che erano i dipendenti come anche gli stagisti tirocinanti era molto manuale perché effettivamente magari per quanto riguarda i new hire o per coloro che fuoriuscivano dall'azienda dovevamo aggiungerli o toglierli manualmente ma questo software alla fine ci ha consentito anche di andare a fare una valutazione su quanto il corso di formazione effettivamente è stato gradito dai dipendenti infatti al termine del corso di formazione andavamo io insieme alla mia collega tirocinante col tablet nella nell'aula a fargli proprio fare questo test sulla gradevolezza del corso di formazione ed eventuali diciamo feedback potevano consentirci di andarlo a migliorare poi successivamente come dicevo prima durante il primo mese di formazione finanziata non avevo ancora le competenze opportune per saper gestire il tutto e ogni tanto non sapevo proprio dove sbattere la testa perché c'erano molte regole da seguire e monitorare molta gestione dello stress e molto spesso mi è capitato che i capi reparto non collaboravano nel fornirci nominativi delle persone che potevano staccarsi dal macchinario in produzione per dedicarsi per un'ora alla formazione tuttavia ho imparato a gestire questa situazione acquisito le abilità necessarie per adattarmi le diverse sfide soprattutto anche il modo in cui comunicare con i capi reparto è cambiato infatti facendo un po' un'autoanalisi all'inizio i miei toni erano al limite dello scocciato perché non vi era proprio collaborazione tra reparto risorse umane e reparto invece produzione e ci serviva proprio mandare un tot numero di persone i corsi di formazione poi siamo riusciti a ragionare assieme che effettivamente quello che stavamo facendo sia la formazione era nato proprio per rendere polivalenti le persone ossia una persona sarebbe stata in grado di lavorare su più macchinari proprio il fatto che se una persona mancava su quel macchinario c'era un'altra persona per andare a sostituirlo e quindi stato fondamentale il ricordarsi il perché vi era quella formazione finanziata e perché effettivamente occorreva dedicarci del tempo e impegno da entrambe le parti all'inizio devo ammettere che mi sono sentita un po' spaesata c'era tantissimo da fare mi sembrava di non essere mai all'altezza della situazione ma infatti questo è molto importante grazie al supporto della mia tutor e dei miei colleghi e anche un po' se posso dire alla mia testardaggine ho imparato a gestire lo stress a trovare soluzioni per ogni problema sono state infatti felice di lavorare in un team così collaborativo infatti il team di lavoro è molto importante anche in merito a questo ambito e di poter imparare di conseguenza così tanto dalla mia esperienza ora guardo indietro con orgoglio dopo tutto comunque la la marea di problemi che magari ci possono essere stati mentre percorrevo questa strada e sono davvero grata per questa opportunità e ringrazio anche tutti voi per avermi dato la possibilità di condividere la mia testimonianza e spero che possa essere d'aiuto per chi come me si trova alle prime armi nel mondo della formazione grazie Elena e ovviamente in bocca al lupo perché questo è soltanto il primo che sono i primi anni di grande e bella carriera davanti speriamo grazie allora io ho visto che c'è c'è già una domanda in chat e scrive Sabrina e ringrazia Sara per l'intervento illuminante e confermo l'importanza anzi l'essenzialità di non fare formazione cratta all'alto ma bottom up dal basso i miei studi pedagogici confermono l'efficacia di tale metodo ma questo significa stare vicino alle persone il digitale non non allontana un po questa strategia bottom up sarà cosa dici e poi poi continuiamo a leggere perché scusami giusto per concludere perché Sabrina dice non rischiamo di allontanare dall'esperienza perché nell'esperienza che abbiamo maggior che abbiamo maggior apprendimento nelle grandi aziende si investe su questa formazione esperienziale o sono sempre più orientate al digital va bene allora intanto grazie grazie Sabrina della domanda allora in realtà ovviamente sì la assolutamente formazione bottom up da un punto di vista anche educativo e pedagogico ha una sua efficacia rilevante per quanto riguarda la domanda ma il digitale eh spersonalizza la formazione eccetera eh allora io come dico sempre è un rischio ma sappiate che tante volte anche la formazione in presenza può non incentivare l'apprendimento delle persone perché sempre come viene fatto eh io dico sempre che c'è no una differenza tra eh il teaching e learning l'insegnare e il fare apprendere le persone sia in presenza che a distanza dipende sempre che tipo di esperienza facciamo fare alle persone il digitale ci mette davanti ad una sfida cioè di creare l'esperienza anche a distanza è difficile sì difficilissimo perché come vi dicevo prima non abbiamo un riscontro immediato delle persone manca la parte come dire umana ok del rapporto che assolutamente la formazione in presenza eh garantisce ma l'obiettivo non è ragazzi sostituire cioè non dobbiamo passare da un una formazione totalmente in presenza ad una formazione totalmente digitale l'obiettivo è integrare e interrogarsi ogni volta sul cosa veramente serve in basso agli obiettivi in basso al contesto in basso alle situazioni in basso alle persone è un po' come dire io entro in aula e faccio un'attività di gruppo o un'attività individuale è ovvio che avrò persone che preferiranno si troveranno meglio per carattere attitudini a lavorare in gruppo e altri invece che nel gruppo non rendono quanto rendono in maniera individuale che faccio lì non garantisco la formazione a metà delle persone no quello che devo fare io proprio come formatore è cercare di mixare le esperienze e cercare soprattutto di capire chi ho in aula o chi avrò davanti al computer ma ricordatevi che l'obiettivo è integrare questi apprendimenti cioè la formazione aziendale moderna sarà una formazione in cui ci sarà un mix di apprendimento in presenza apprendimento informale social learning eccetera la formazione digitale non è la soluzione e soprattutto non è da considerare come vi dicevo prima l'obiettivo avere lo strumento ma creare proprio un mindset ok in cui lo strumento mi può aiutare ma fare quello che voglio fare io cioè garantirmi coinvolgimento delle persone perché le persone più si sentono motivate e possono sentirsi motivate anche attraverso una formazione digitale più hanno voglia di apprendere se posso aggiungere suggerire a sabrina ecco quello che ha detto elena ha detto una cosa molto interessante nell'azienda dove ha fatto tirocinio è una cosa che viene fatta un po in tutte le aziende virtuose hanno fatto una raccolta dei fabbisogni e poi successivamente un'analisi dei fabbisogni quindi come dicevi sabrina alla fine della tua domanda se nelle grandi aziende si investe su una formazione che parte anche dal bottom sì però bisogna sempre fare un'analisi ok si parte da una raccolta dei fabbisogni quindi dal basso sicuramente poi questa raccolta deve essere mediata con un'analisi quindi dove voglio finalizzare perché non posso fare formazione su tutto su qualunque fabbisogno però è molto importante quello che diceva elena partire da un'analisi ok e poi per quanto riguarda l'aspetto digital non posso che ribadire anche quanto dicevo nel mio intervento sulla parte digital HR il digital ribadisco è un mezzo no quindi va benissimo però comunque l'aspetto umano l'aspetto della gestione proprio della persona deve essere sempre quello centrale ecco allora vediamo se c'è qualche altra curiosità ma se qualcuno vuole partecipare a questa chiacchierata con noi abbiamo qualche altro minutino io facciamo così e lo ripeto così tanto non mi stanco se qualcuno di voi ha qualche domanda quindi vuole partecipare con noi attivando il microfono o potrà tranquillamente scrivercelo sia nella chat oppure alzare la mano come sto facendo io cliccando sul pulsante reazioni in basso ok c'è Samuele ti attivo l'audio ciao grazie ciao ciao volevo fare una domanda un po' generale nel senso non a un ospite nello specifico volevo chiedere in relazione al digital learning e quindi alla a magari un corso appunto che può avvenire tramite SCORM quali sono secondo voi logicamente questa domanda si lega un po' alla tipologia di azienda in cui avviene la formazione però se riuscite a fare degli esempi o delle opinioni su quali argomenti secondo voi sono più più trasferibili tramite una tipologia didattica così al po' a diciamo a differenza di quella in presenza o in sincrono ecco di parte beh se volete posso iniziare io darò una risposta da consulente perché il consulente dovete sapere che dice sempre dipende ma in realtà c'è una parte di verità nel senso che sicuramente c'è una parte di formazione tecnica che spesso viene già inserita all'interno delle piattaforme formative dopo ok c'è proprio ci deve essere una trasmissione di conoscenze e quindi ovviamente il mezzo informatico si presta molto bene in realtà anche qui è vero fino a un certo punto perché se poi noi non attiviamo all'interno di questa formazione digitale di queste piattaforme digitale un momento di feedback un momento di riscontro anche lì rischiamo che la formazione anche se tecnica rimanga fine a se stessa ok però sicuramente può essere più semplice il sapere già che cosa mettere all'interno di queste piattaforme io mi occupo anche di formazione cioè soprattutto di formazione trasversale quindi le cosiddette soft skills per esempio lì la questione è un po più complessa ok perché in aula sulle soft skills c'è molta interazione tra le persone però ripeto che è una cosa che assolutamente si può iniziare a fare fermo restando che anche in questo caso dobbiamo cercare di prevedere sempre una parte poi di feedback di ritorno potenzialmente in presenza Elena Paolo dunque se posso aggiungere ecco la mia esperienza per quanto riguarda formazioni tecniche fatte comunque con l'utilizzo di questi mezzi devo dire che ci sono degli esempi molto interessanti applicati sulle aziende a parte ecco quello che citavo prima delle formazioni tecnici Ferrari purché siano fatti in modo tecnicamente impeccabile perché poi qua il mezzo tecnico diventa veramente la discriminante per l'efficacia o meno della formazione quindi deve esserci veramente una piattaforma molto funzionante e una realizzazione anche tecnica appropriata ecco ci sono ovviamente delle formazioni tecniche che invece non possono essere fatte in presenza pensiamo magari alla formazione su delle macchine particolari dove comunque l'operatore che lavora magari su una macchina utensile deve avere accanto a sé la persona per far vedere proprio come si fa il prodotto nella pratica ecco quindi penso aziende industriali ci sono delle situazioni in cui tu non puoi prescindere dal cosiddetto affiancamento no quello che un tempo si chiamava l'affiancamento ma che comunque è il training of the job no quindi che viene ancora fatto adesso ecco questo per quanto riguarda la formazione tecnica ecco sulle soft skills se posso dirà mia ecco io ho visto degli esempi virtuosi dove però c'è un sistema misto ecco dove c'era un'alternanza tra presenza e soprattutto uno scambio in diretta tra i partecipanti sui temi che hanno stati affrontati perché è molto importante dare la possibilità ai partecipanti di interagire no molte volte vengono fatte le cosiddette esercitazioni lavori di gruppo no questo però è utilissimo perché poi dà la possibilità ai partecipanti di provare già applicare da subito quelle che sono le tematiche spiegate nei corsi soft skills fatto totalmente a distanza c'è questo problema anche che rende molto difficile le cosiddette esercitazioni noi lavori di gruppo sul tema no che vengono spesso promossi anche qui devono essere fatti bene perché a volte vengono fatti male a volte vengono fatti solo un po così no però se fatti bene questi lavori gruppo non so Sara ecco se nella tua esperienza avrei fatto no queste esercitazioni quando fate questi corsi sulle soft skills diventano veramente centrali ecco per la formazione sì assolutamente infatti era quello che dicevo prima che la formazione a distanza ci può aiutare ad anticipare tutta una serie di concetti che poi verranno ovviamente affrontati in presenza veniva da anche raccontarvi brevemente io per esempio sto facendo con un'azienda una formazione tecnica a proposito di una serie di procedure di linee proprio della produzione è ovvio che quello che stiamo facendo è digitalizzando tutta una serie di informazioni quindi cosa devi sapere prima di entrare in linea dal punto di vista della sicurezza dal punto di vista dell'anche perché è che contributo il tuo lavoro da a tutta la linea produttiva dell'azienda è ovvio che poi a questo va affiancato il training on the job di cui parlava Paolo però capite che c'è differenza se arriva una persona nuova in un'azienda che viene subito messa in linea e non vede magari il processo a monte e a valle o una persona a cui viene prima raccontato in maniera digitale qual è il tuo contributo cioè di nuovo lavoriamo sulla motivazione di una persona che poi andrà a fare una cosa prettamente tecnica però mi assicuro in questa maniera che ci sia un'integrazione soprattutto in coinvolgimento maggiore fermo restando che poi lo imparerete sul campo che l'esperienza e l'esperienza che vengono fatte in ogni lavoro dal vivo sono le più formative possibili per il semplice fatto che le viviamo da tutti i punti di vista e anche gli errori che poi facciamo dal vivo ci servono veramente come lezioni apprese per ricordarci come va svolto un lavoro però ecco che vi passi il messaggio secondo me mi permetto di dire anche secondo noi che l'integrazione e l'arma vincente e soprattutto la sinergia tra vari strumenti perché probabilmente adesso stiamo parlando digitale ma fra dieci anni ci sarà qualcos'altro quindi è proprio dire non si tratta di cambiare nel senso di sostituire ma si tratta di aggiungere tanti pezzetti nuovi a quello che sappiamo già fare o quello che utilizziamo già se posso aggiungere secondo me la formazione a distanza può effettivamente offrire un ambiente di apprendimento unico che favorisce proprio il trasferimento di alcune competenze che possono essere più difficili da acquisire da acquisire una formazione in presenza ad esempio dalle più basilari mi viene in mente le competenze digitali la formazione a distanza richiede proprio l'uso di strumenti tecnologici per comunicare collaborare apprendere ma anche per quanto riguarda le soft skills mi viene da pensare anche solo l'autonomia e autoapprendimento infatti la formazione a distanza richiede una maggiore autonomia autoapprendimento rispetto alla formazione in presenza pertanto la formazione a distanza può aiutare gli studenti proprio a sviluppare queste competenze come la capacità di organizzare il proprio tempo di trovare utilizzare risorse online di essere responsabile del proprio apprendimento o magari anche competenze di comunicazione o addirittura competenze di lavoro remoto perché adesso si sta sempre più espandendo il lavoro smart working quindi la formazione a distanza può aiutare anche a sviluppare competenze di lavoro remoto come la gestione del tempo la comunicazione efficace attraverso diversi canali quindi secondo me può essere anche un valore aggiunto rispetto alla la formazione in presenza rispetto ad alcune tematiche ovviamente grazie grazie Samuele ciao allora c'è Federica con la mano alzata magari ascoltiamo anche la sua domanda ciao Federica buonasera ciao a tutti innanzitutto volevo ringraziare i relatori perché è stato molto illuminante io ho seguito negli ultimi anni un po' di webinar anche su joiners perché sono appassionata all'ambito HR però un webinar così specifico sulla formazione non ho mai avuto il piacere di ascoltarlo e mi ha colpito molto soprattutto perché tutte le esperienze che ho fatto mi hanno portato a voler decidere dopo il mio percorso di studi che ahimè non è psicologia ma è giurisprudenza di addentrarmi nell'ambito della formazione e quindi la mia domanda è un po' più tecnica e pratica cioè come riuscire a entrare nel mondo dell'HR ma soprattutto nell'ambito della formazione e dello sviluppo e quindi togliendo un po' da scremando un po' facendo un po' una scrematura su su tutte le offerte di lavoro che richiamano anche quella che è la selezione recruitment ma trovare esperienze o comunque un percorso master o un criterio di scelta delle offerte di lavoro per riuscire a fare proprio il lavoro che fate voi quindi la formazione Posso intanto rispondere io? Sì assolutamente perché va molto con quello che ci raccontavi prima quindi via libera Beh intanto Federica se ti può consolare anche io sono laureato in giurisprudenza Anche io questo peccato originale no? Ci ho messo un pochettino di anni a superare anche questo imprinting un po' della laurea in giurisprudenza però ce l'ho fatta ecco Dall'altro lato quello che ti posso rispondere da subito Federica E tu all'inizio dicevi ok ho scelto vorrei scegliere di lavorare non so se hai già fatto delle esperienze o meno forse non ancora però credo giusto Federica Io ho fatto delle esperienze personali quindi una formazione su di me tali per cui mi piacerebbe portare avanti questa professione Intendo lavorativamente no Lavorative no Sto studiando Ok ecco quello che ti posso dire da subito è comunque se scegli il mondo risorse umane Almeno dal mio punto di vista ma insomma ne ho visto già un po' di situazioni Tu comunque non puoi pensare di dire scelgo solo la formazione te lo dico in modo un po' pianto Così no? Perché il mondo risorse umane è molto composito e un insieme di attività dove c'è sicuramente la formazione ma è un processo Tu devi vedere mi permetto di dirti in questo mondo come un processo no Dove si parte se vuoi vederlo in modo schematico dall'assunzione della persona Anzi prima ovviamente dalla selezione si parte dalla selezione dall'assunzione Poi c'è l'onboarding quindi il portare a bordo la persona con tutta una serie di attività Poi c'è tutto un percorso di cosiddetta gestione no della persona Che comprende anche la formazione ma è veramente difficile dire Ok mi occupo solo di formazione Forse questo succede nelle grandissime organizzazioni Quelle molto strutturate dove si lavora ancora un po' adesso a compartimenti stagni Ma non è neanche più così in queste organizzazioni Io ti posso dire ho iniziato in Fiat Auto negli anni 90 E nella direzione del personale lì si lavorava effettivamente a compartimenti stagni C'era chi si occupava solo di formazione Chi si occupava solo di relazioni sindacali Chi si occupava solo di fare le paghe Chi si occupava solo di fare la selezione Ed era tipico anche di tante grandi aziende La gente scappava La gente scappava Io sono scappato Tutti quelli che sono entrati più o meno della mia generazione In quell'azienda sono scappati tutti Perché la gente dopo un po' ti chiedeva Ma io vorrei anche Io non posso pensare di fare le risorse umane Sapendo solo della formazione Sapendo solo delle relazioni sindacali Non sapendo come si fa un processo di selezione Com'è possibile? No quindi E per farti un paragono Non è dire Giustissimo dire Ok a me piace il mondo della formazione Però devi sapere Che se vuoi entrare in un ambito Appunto in una direzione Quello che un tempo si chiamava di un'azione HR Ecco adesso chiamano altri modi Devi per forza confrontarti anche con altre attività Ecco Non vorrei deluderti Ecco questa mia risposta No va bene Va bene Prendo atto È più facile almeno così In realtà Trovare quelle che sono le offerte di lavoro Mi aveva incuriosito molto Invece la vostra esperienza Perché Mi siete proprio concentrati su quella parte lì È sicuramente quella che mi affascina e mi appassiona di più Se poi ti posso ancora dire Ecco come consiglio Comunque questa parte ti affascina Tu non limitarti magari solo a selezionare i job posting dove parlano espressamente di quella parte lì Perché magari ecco non avendo ancora fatto un'esperienza effettiva Neanche fosse come tirocinio Sono capito Quindi difficilmente magari puoi essere attrattiva come candidata Quindi magari parti anche Non escludi situazioni più da generalist Quello che vengono chiamati HR generalist Perché comunque anche in un contesto di HR generalist Tu vieni ad apprendere Vieni a confrontarti con il tema della formazione Ottimo Vi ringrazio Grazie Grazie Federica Allora io direi che ci siamo Abbiamo anche risposto a un po' di dubbi domani Un sacco di punti interessanti E quindi complimenti anche a chi ha partecipato Perché era pronto Era pronto per questo incontro Paolo Sara Elena Grazie mille Per aver partecipato Per aver animato questa esperienza online Mi auguro di rivedervi presto su Joiners Grazie a voi Grazie a voi Grazie Buona serata a tutti Buona serata Alla prossima Ciao